Movida Locca Television 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 Anche voi questa sera per questo evento Halloween Che ti è sembrato? Beh, chi l'avrebbe mai detto? A Santa Anastasia Time Ok, un grande locale per gente selezionata, gente per bene Lo dico, un locale per molti ma non per tutti Che dici? Per pochi e scelti E tu vuoi dire qualcosa agli amici di Ail Time e di Movida Locca Television? A correte in tanti, è veramente divertente Vi aspettiamo Piazza Arco Santa Anastasia Napoli Andiamo da Rita dalla proprietaria Time Santa Anastasia Movida Locca Television Come nei più grandi locali anche stasera Feste di Halloween Aspettando Halloween c'è stato Rita ben ritrovata Ciao Mario Tu anche grifata come una streghetta in più che mai Certo, stasera ci siamo messi bene così col cappellino Ci siamo divertiti perché poi le immagini hanno parlato chiaro E nei più grandi eventi io ci sono e come tale Queste in grande locale dove veste Movida Locca Television Certo, sempre Mario Rita, io durante le mie serate volevo omaggiarti In quanto locale Movida Locca Television Dei nuovi berrettini Questi qui che sto regalando un po' ovunque Ed è giusto che sia anche tu ad avere il mio berrettino Sì, Mo Mario, grazie Rita, programmazione per quanto riguarda il mese di novembre? Siamo in work in progress Quindi lavoro in corso Ci vediamo su Facebook Time Eventi Santa Anastasia Oppure Mario P. Bis, Mario P. Pelliccia Insomma, tutto ciò che riguarda Movida Locca Tutto ciò che riguarda il time di Santa Anastasia È un po' pubblicizzato ovunque Sì, ci possono seguire su Time Eventi Santa Anastasia E così vedrete la nostra programmazione Ricordiamo un po' dove si trova il time E qualche contatto telefonico Allora sì, time si trova a Santa Anastasia È un lounge bar È ricco di novità per questa nuova programmazione Oltre alla champagne, stuzzichini, bibite Non so più Frutteria, queste cose qui No, vogliamo aggiungere anche delle piadine E panini Non diciamo altro Veniteci a trovare Siamo in Piazza Arco Santa Anastasia A due passi dal noto santuario A ridosso proprio del distributore di benzina Kuwait Quindi siamo qui Vi aspettiamo È un consiglio mio, un consiglio di Rita Per info 333-2205-017 Ringrazio Rita, ringrazio Peppe Desena alla camera Tutto il mio staff di Movida Loca Television Anthony Razzini alle foto E che dirvi Ci vediamo nella prossima location di Movida Loca Television Movida Loca Television